Tutte faccine verdi per il Consiglio regionale e quanto emerge dalla bussola della trasparenza, piattaforma web del Governo dove verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del decreto legislativo sulla trasparenza. Il sito dell'Assemblea piemontese risponde a tutti i requisiti richiesti, che vengono appunto evidenziati tramite i cosiddetti emoticon, molto utilizzati nel linguaggio digitale.